Ci accomodiamo e diamo inizio a questo incontro che sicuramente oggi rappresenta per tutti noi una grossa opportunità di crescita umana, soprattutto di crescita civile. L'incontro ha un titolo che in qualche modo ci mette tutti quanti sulla linea di un impegno civile, legalizziamoci, quindi facciamolo attraverso anche la conoscenza di importanti informazioni che riguardano il nostro vivere civile, facciamolo anche attraverso la testimonianza, le testimonianze che oggi verranno offerte e trasmesse dalle persone che sono qui presenti. Io vado a salutare subito chi ha voluto organizzare questa iniziativa, la dottoressa Daniela Orabona, dirigente scolastico dell'Istituto Compensivo Sant'Antimo IV, Pestalozzi. Voglio salutare chiaramente il dirigente di questa scuola, oggi non è qui, ma a breve vi spiegheremo per quale motivo, il dottor Giuseppe Pagano, tutto dirigente dell'Istituto Superiore Giuseppe Moscati. Salutiamo la dottoressa Maura Perrotta, commissario prefettizio del Comune di Sant'Antimo. Abbiamo il piacere di ospitare qui questa mattina il dottor Nicola Graziano, magistrato del Tribunale di Napoli. Il capitano Giovanni Ronchi, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giuliano. Il tenente colonnello Paolo Vadiero dell'Accademia dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli. Il dottor Antonio Piricelli, colonnello comandante della Polizia Municipale di Sant'Antimo. La signora Maria di Buono, vedova Michele Liguri. Il parroco della parrocchia San Vincenzo Ferreri di Sant'Antimo, don Gianluca Lentini. Il dottor Luigi Leonardi, imprenditore anti-camorra. So che in platea ci raggiungeranno probabilmente anche altri dirigenti. Noi avremo modo di salutare la loro presenza qui anche nel corso di questa iniziativa. Per partire subito con i lavori volevo lasciare la parola alla dottoressa Daniela Orabona, la dirigente dell'istituto comunale. Siamo con la dirigente del Pestalozzi di Sant'Antimo, la dottoressa Daniela Orabona. Una giornata dedicata alla legalità. In qualche modo si apre un po' quella che è la stagione legata alle attività dell'Associazione Libera, quindi legata alla lotta alla criminalità, alle mafie e quindi anche alle vittime della criminalità. Un impegno importante da parte della scuola? Certo. Il convegno sulla legalità è stato fortemente voluto dai ragazzi, dai nostri alunni, alunni della Pestalozzi, che hanno partecipato precedentemente a un convegno sulla terra dei fuochi. Però noi abbiamo voluto allargare un po' il punto di vista e porre l'attenzione soprattutto sulle condotte da porre in essere. E ci rifacciamo e così ci rifacciamo anche, ci ricolleghiamo anche al bel libro del consigliere Graziano, Parole di libertà, in cui si parla praticamente della carta costituzionale. E quindi in pratica noi vogliamo che la carta costituzionale sia la lampada dei nostri passi, quindi che governi le nostre azioni sempre e comunque. Quindi poniamo l'attenzione soprattutto sulle nostre condotte che devono essere eticamente e socialmente accettabili e apprezzabili. Quanto è importante l'impegno della scuola dal punto di vista, diciamo, dell'impegno civico che viene trasmesso ai ragazzi? Il sentivo si inquadra appunto in un contesto più ampio, in un contesto più ampio che è appunto quello di non distaccarsi dalla logica della criminalità, ma guardare più che altro, come ho già detto prima, alle nostre azioni quotidiane, a quello che noi possiamo fare. E quindi è un messaggio di positività e di speranza che noi vogliamo tramandare agli altri, che vogliamo trasmettere agli altri. Quindi per citare il titolo della vostra iniziativa, legalizziamoci. Legalizziamoci, sempre. Buongiorno, siamo con il giudice dottor Nicola Graziano, magistrato del Tribunale di Napoli. Oggi qui a Sant'Antimo, all'Istituto Moscati, per parlare di legalità, farlo anche attraverso una delle sue ultime pubblicazioni, quindi un'occasione importante per parlare ai giovani, parlare ai ragazzi dei nostri territori. Io sono molto onorato oggi di stare qui a Sant'Antimo, sono entrato in questa bellissima olamagna, ho visto tanti giovani e giovanissimi, per me è davvero un onore. Certo, il tema della legalità bisogna saperlo affrontare in diversi modi, oggi lo faremo raccontando un po' da parte il mio libro, ma abbiamo anche altri ospiti, forse più autorevoli di me. L'importante è comunicare a loro questo senso profondo della legalità, che significa impegno, significa lasciare un po' da parte l'egoismo e cercare di essere dei protagonisti attivi, dai cittadini, e cittadini anche quando si ha una tenenità come questi straordinari ragazzi che ho davanti, io ho le mie spalle, che sono una grande banda, un'orchestra, credo, non sia una banda, un'orchestra, e quindi praticamente oggi ci delizieranno con Lino di Mamele e poi con il resto. Sono veramente felice, forse si vede anche dal mio sorriso. Grazie. Quanto ritiene importante realizzare eventi come quello di oggi, dove vengono raccolte testimonianze anche di imprenditori che sono vittime della criminalità, raccogliere anche testimonianze di chi ogni giorno si impegna per garantire la legalità su questo nostro territorio, spesso oggetto, come dire, anche dal punto di vista delle cronache, di eventi sicuramente, diciamo, difficili. E la legalità si svolge proprio attraverso degli esempi e bisogna essere presenti. Secondo me non bisogna mai sottrarsi ed è questa una cosa importante da sottolineare. E quindi la presenza mia di tante autorità, di tante forze anche militari oggi e stamattina, di chi ha sofferto di prima persona, è importante perché raccontare, raccontarsi, confrontarsi, soprattutto con le giovani generazioni, è il senso profondo di un impegno. Perché poi appunto quando si è testimoni e si diventa anche sentinelle di un territorio e quindi forse questo è quello che dobbiamo dire ai ragazzi. Siate sentinelle, sappiate che il bene comune è un bene di tutti e siate anche testimoni di questo impegno, il vostro, quello della vostra famiglia, quello del vostro amico, perché soltanto così si può crescere. Questo territorio che ha bisogno di tanta voglia di fare, ma noi ci siamo e non ne crediamo mai. Davanti alla illegalità non si può fare un passo indietro, bisogna farne sempre un avanti perché è come il sistema dei vasi comunicanti, se lo occupiamo con gesti di legalità mettiamo nell'angolo la illegalità. Allora, siamo col dottor Luigi Leonardi, un imprenditore che oggi porta qui una sua testimonianza rispetto a quello che può essere il problema, il dramma della criminalità organizzata su questi nostri territori. Lei in qualche maniera oggi è inquadrato un po' come l'imprenditore Antica Morra. Antica Morra forse soprattutto perché in qualche modo lascia a questi ragazzi una testimonianza di lotta, di impegno civile. Sì, soprattutto diciamo che ha un doppio valore questo impegno qui, la mia presenza oggi, perché io a Sant'Antimo ho avuto l'ultimo negozio che poi mi è stato incendiato, 2 novembre 2009, quindi ci tenevo ad essere qui particolarmente come luogo, ci tenevo ad esserci perché i ragazzi hanno bisogno di esempi. Io porto una testimonianza di una persona che è un imprenditore che vuole fare l'imprenditore sul suo territorio e ha detto di no alla criminalità perché dire di no è possibilissimo. Il messaggio che lascia un imprenditore a un territorio come questo, che spesso è un territorio dove il tema della disoccupazione, della crescita economica in qualche modo si incrocia con i temi della criminalità, che è chiaro, rispetto a tutto questo rappresenta spesso un elemento di blocco della crescita del territorio, un elemento che a volte può addirittura scoraggiare gli investimenti sul territorio. Lei in qualche modo può dirci qualcosa in merito? Purtroppo sì, nel senso che la presenza della criminalità non ha mai portato benefici, soprattutto dal punto di vista economico, dove c'è la camorra non si evolve l'economia del posto. Quindi purtroppo è tutto collegato e la disoccupazione però ci tengo a sottolineare che non deve essere mai una scusa per scegliere di stare dalla parte sbagliata. Si ha sempre la possibilità e la scelta di scegliere di stare dalla parte giusta. Nello sviluppo di un territorio ci deve essere la partecipazione della politica, dell'amministrazione, perché Falcone diceva che i cittadini non devono essere lasciati in ermi a contrastare le mafie e questo deve essere un messaggio chiarissimo. La politica deve fare la sua parte nel contrastare questa storia e nel dare la possibilità ai giovani di non andare via e di restare sui territori. San Maura Perrotta, commissario straordinario qui al comune di Sant'Antimo. Oggi una giornata dedicata alla legalità, un tema che evidentemente incrocia anche quello che è la situazione oggi sul territorio qui a Sant'Antimo. Un tema quindi particolarmente urgente. E come dire, lei qual è il messaggio che lascia oggi a questi ragazzi? Allora, oggi siamo qui noi adulti su questo palco per dare un segnale di speranza, ma anche di incoraggiamento per un impegno civico in modo che si possa costruire una società migliore nel rispetto delle regole. Anche aiutare ad attraversare la strada oppure semplicemente dire ai propri genitori di non lasciare la spazzatura in orari fuori da quelli che sono gli orari prestabiliti. Anche questa è legalità. Partiamo dal piccolo. Non dobbiamo per forza parlare di contrasto a quella che può essere la criminalità organizzata, ma quella arriva, ci pensiamo anche noi come istituzioni sempre, ma i ragazzi devono partire da questi piccoli gesti per arrivare ad essere degli uomini responsabili in futuro. Grazie. 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 Grazie.